sabato 31 agosto 2024 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa vi ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20 e 35 per seguire insieme la sfida tra la lazio e il milan terza giornata di campionato la seguiremo in diretta naturalmente andiamo a vedere insieme quelle che sono le prime pagine dei quotidiani cominciamo dalla gazzetta dello sport che apre con le due partite di ieri perché ieri si è aperta la terza giornata di campionato con le vittorie dell'inter con l'atalanta e del torino a venezia è proprio il torino in taglio alto cocco testa toro il bomber che non ti aspetti l'ottimo torino di vanoli ma anche comunque una buona partita per il venezia l'inter va il torino va in testa insieme all'inter alla diva inter spettacolo turam quattro gol all'atalanta che viene travolta anche dalla doppietta del francese a destra le ultime cose di mercato mercato che si è chiuso ufficialmente ieri sera si è chiuso con qualche movimento per per le squadre ad esempio il milan è arrivato ebram mentre per questa sera ci sono i dubbi di fonseca su teo e su leao e infatti entrambi potrebbero finire in panchina a napoli c'è il pasticcio osimen salta l'accessione ma resta al napoli da fuori rosa questa è la situazione naturalmente in attesa poi credo per quel che riguarda napoli di sbloccare l'accessione di osimen magari in arabia c'è ancora qualche giorno di tempo andiamo a roma perché la roma ha preso manuconè uno degli ipotetici obiettivi del milan mentre la fiorentina mette a segno tre colpi bove cataldi e gossens questa è la prima pagina della gazzetta dello sport andiamo al corriere dello sport corriere dello sport che apre con l'inter che fa vedere le stelle con l'atalanta travolta la bellezza dell'inter 4 a 0 gasperini e poi a sinistra vedete il napoli che questa sera fa gioca al maradona con il parma e si regala gilmore dell'ultimo giorno di mercato de rossi ha il suo conè e dicevamo gossens bove e cataldi tris per la fiorentina amrabate rabbio per il milan scrive il corriere dello sport dopo la punta parte l'assalto al francese che è svincolato lo sappiamo anche se la sensazione insomma per quel che ci riguarda è che il mercato sia chiuso poi sapete che questo dipende sempre dalla situazione benasser e da come questa si sviluppa cocobello è un po banale come dito comunque lo tenevano lì in caldo per quando sarebbe accaduto successo in laguna dopo 62 anni per il torino con vanoli che porta gioco carattere moduli diversi e dunque complimenti al toro mentre tiago ora fa la volare juve mercato da otto e mezzo domani la roma per andare a nove punti l'ultimo giorno non vanno via artur costi c'è giallo oggi testa alla roma per difendere il primato e vedete insomma che qui sulla prima pagina del di tutto sport non c'è l'inter sì c'è ma è qui a sinistra in piccolino inter è decollata si scrive curiosa questa cosa vero ebra milan l'enigma rabbio anche per tutto sport intanto a proposito di roma il romanista in prima pagina apre con i suoi due nuovi acquisti sanemaker e con edice non è finita il titolo del romanista saltato danso non ci sono ancora sostituti per la difesa si punta sugli svincolati ermoso e ummels questa è la prima pagina del romanista andiamo agli approfondimenti perché c'è molto da vedere a cominciare dal successo di ieri sera dell'inter sull'atalanta 4 a 0 inter da favola scrive la gazzetta dello sport turam e barella danno spettacolo l'atalanta va a cappa o la juventus è sorpassata in zaghi ritrova la squadra scudetto e si conferma super negli scontri diretti san siro ancora amaro per gasperini un'atalanta deludente ancora una volta verrebbe da dire dopo torino tutto sommato travolta nei primi dieci minuti incapace di ritrovare un po di equilibrio e di rimettersi in corsa la pausa arriva nel momento giusto per quel che riguarda l'atalanta di gasperini naturalmente la soddisfazione di simone in zaghi grande orgoglio dice il nostro calcio totale che bello vincere così affrontavamo una squadra ottima e allora abbiamo concesso molto molto poco e qui è stata un po diciamo la differenza rispetto alle prime uscite dell'inter dove qualcosa aveva concesso dove comunque anche con il lecce non era stato capace di chiudere subito la partita un torino da primato complimenti a vanoni per quello fatto per il lavoro fatto fin qui granata risolvono col difensore nel finale milinkovic è ancora super vanoni accelera batte il venezia e vola in testa insieme all'inter mentre il venezia di di francesco che sarà il nostro avversario dopo la sosta rimane a un punto soltanto in classifica una vittoria importante dice vanoni siamo soltanto all'inizio ma la strada è giusta il nostro campionato passa attraverso partite così abbiamo dimostrato di avere carattere ha detto e ha detto il tecnico del toro e veniamo alle partite di oggi cominciamo da lazio milan questa sera i dubbi di fonseca ieri abbiamo parlato della conferenza stampa di fonseca e oggi vediamo quelle che potrebbero essere le scelte l'allenatore pensa a un milan diverso teo eleao fuori il tecnico è convinto che la squadra stia assimilando le sue idee ma riflette su scelte forti con i due big e calabria in panchina questo potrebbe essere il quadro della situazione per cui riguarda la partita di questa sera dove vedete che qui in basso jovic resta a casa e camarda va con i grandi quindi ci presenteremo con okafor e jovic e forse ebram in panchina eccolo qui la probabile formazione intanto la lazio con nuno tavare sulla sinistra poi zaccagni e ciauna con dia alle spalle di castiglianos in questo senano 4 2 3 1 che potrebbe anche sembrare più un 4 4 2 con dia al fianco di castiglianos e poi guendusi rovella a centrocampo e non vessino come udine per quel che riguarda il milan vedete emerson sulla destra terracciano terzino sinistro fofan e rendersi in mediana ciucuese a destra pulisica sinistra lo sto cica alle spalle di okafor queste le forse probabili scelte di paolo fonseca per cui che riguarda la lazio baroni la ribalta ecco tavare se ciauna il tecnico lancia gli acquisti utilizzati meno e vara la formula col doppio centravanti e dice serve la partita perfetta queste le parole di marco baroni nel frattempo il milan ha ufficializzato ieri tammy abraham che dice sono pronto l'inglese del milan sceglie il numero 90 e all'olimpico sarà in panchina l'affare concluso con un prestito annuale grazie a una deroga è subito a disposizione e quindi questa sera potremmo anche vederlo in campo nel frattempo a mercato chiuso ma alcune vicende restano purtroppo aperte nel senso che non se ne può più per la sera resta per ora il tentativo per rabbio che ancora senza squadra ieri si è parlato si è romanzato di una di una telefonata tra furlani la mamma di rabbio per cioè non sappiamo nulla non sappiamo nemmeno se sia mai esistita questa telefonata comunque sta di fatto che rabbio non ha una squadra e noi abbiamo ancora ben a sera è il giorno di lukaku nel napoli che deve affrontare la grana legata alla mancata partenza per ora di victor osimen big rom accende napoli il maradona è pieno i compagni colpiti dalla sua potenza romelu è in forma impressionato nei primi allenamenti contro il parma partirà dalla panchina dunque napoli parma con ancora raspadori per conte come riferimento centrale dietro politano ecva rascheria nel parma invece cancellieri e titolari insieme a mi hai la man e bonni giocatori che abbiamo purtroppo imparato molto bene a conoscere la roma ha chiuso per manu con e l'abbiamo visto forza corsa ed esplosività sarà il nuovo motore di de rossi acquistato per 20 milioni bonus inclusi dal borussia dimension glabach firma per cinque anni pronto per la juve poi l'esordio in nazionale nell'ultima bundesliga meglio di lui nei dribbling solo musi alla virz vargas e schmidt questo il profilo di manu con e c'è stato poi il sorteggio per quel che riguarda l'europa league e la conference league il vento in coppa per roma e lazio niente incroci con murigno e ciro tottenham e porto i pericoli evitati fenerba c'è besictas giallorossi con il tottenham e con l'eintracht mentre per il bianco celesti c'è il porto c'è l'ajax c'è anche la real società oltre a altre squadre prestigiose come il nizza ad esempio o la dinamo chiev ecco dinamo chiev che affronterà anche la roma questo il quadro dell'europa league invece per quel che riguarda la conference league competizione alla quale la fiorentina si è qualificata un po a fatica viola di gioia coppa in discesa dal mercato arrivano bove cataldi e gossens la fiorentina con vedete il las clint la polnicosia vittoria guimaraes the new saints il sangallo e il pafos queste le questi sorteggi evitato il celsi dalla prima fascia il linz viam rabat che va in turchia al fenerbace oggi si giocano anche altre due partite alle 18 e 30 si gioca il sfida tra il bologna e l'empoli mentre sempre la stessa ora si gioca la sfida tra il lecce e il cagliari insomma partite con punti pesanti in palio per questa sera lazio minan e napoli parma naturalmente partita lazio minan che seguiremo insieme a partire dalle 20 e 35 io vi ringrazio vi auguro un buon sabato appuntamento questa sera